Ok, accediamo a Facebook. Ah no, aspetta. Aspetta, sono stato bannato per sempre da Facebook. Ok, cambiamo, accediamo a Ludomedia. Ludomedia, l'unico sito dove non vieni bannato solamente perché stai sul cazzo alla gente potente. Benissimo, quindi vi faccio vedere un po' com'è Ludomedia. Ecco, questo è il mio profilo. Basta che cercate qui praticamente Magicolo, no? Poi andate in persone e mi trovate. Eccolo qua, Magicolo, perfetto. E mi avete trovato. Qui basta che cliccate su aggiungi amici, non so come sia. Comunque vi consiglio ragazzi Ludomedia. È un sito anche, è molto simile a Facebook, infatti vedete qua c'è la cosa per vedere le persone. E niente, qui funziona anche, mettete in bateca. È tipo, sto facendo un video su YouTube. E basta, e poi esce qua la scritta. Quindi ragazzi, vedi? Poi qui si può anche fare la chat, quindi perfetto ragazzi. Perfetto, perfetto, perfetto. Usate, vi prego, Ludomedia perché è molto meglio e possiamo anche chattare. Perché, come vedete, su 20 persone ce n'è uno che ha il nome giusto. Quindi chiunque può stare su Ludomedia e vi aspetto. Ciao a tutti. Vi lascio il link in descrizione del mio account. Ciao.